Ciao a tutti amici di Eximardure.com e ben ritrovato ad un nuovo video unboxing. Questa giorno andremo ad analizzare le TT Sports Kronos, un headset da gaming di tipo stereo che avremo la possibilità di collegare anche al nostro smartphone tramite un adattatore incluso nella confezione. Come possiamo vedere la confezione è molto aggressiva e riporta varie caratteristiche e varie informazioni sia nella parte frontale sia nel retro. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Procediamo ad estrarre le cuffie ed il relativo bandolo che adesso andremo a vedere di che cosa si compone. Allora, come prima cosa troveremo un sacchetto in tessuto per portare le cuffie dove vorremo con inciso il logo della TT Sports. Inoltre, un piccolo manuale per la garanzia e i cavi per collegarlo al computer o allo smartphone. Nel dettaglio abbiamo un cavetto con un jet da 3,5 mm, placca di noro e un connettore mini USB da collegare alle cuffie di colore rosso che servirà appunto per collegare le Cronos al nostro smartphone. E il classico cavo da collegare al computer dotato di due jack da 3,5 mm sempre placati in oro ed un connettore USB per l'alimentazione ausiliare che ci permetterà di illuminare il LED posto sui padiglioni delle cuffie. Inoltre, troviamo un comodo controller che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono e di alzare e abbassare il volume. Come sempre, è dotato di un connettore mini USB che si collegherà sotto le cuffie e che adesso andremo a vedere. Le cuffie sono ancorate con dei laccetti al blister di plastica. Come possiamo vedere, le cuffie hanno un design abbastanza aggressivo, in colorazione rossa e nera. La parte esterna dei padiglioni, come possiamo notare, è lucida ed è presente un LED circolare che si illuminerà di rosso insieme al Drago, logo della TTSports, una volta collegate al connettore USB al computer. Nella parte inferiore, come possiamo vedere, troviamo il piccolo connettore. Il microfono è ruotabile di circa 180 gradi ed avremo la possibilità di portarlo verso l'interno per facilitare la comunicazione. Inoltre, i padiglioni hanno la possibilità di essere ruotati, quindi li potremo riporre più comodamente nel sacchetto. Abbiamo la possibilità di allargare o richiudere il LED set per trovare la posizione ideale per calzarla sulla nostra testa. La struttura interna del LED band è realizzata in alluminio, mentre troviamo il logo del brand stampato sul LED band. Nella parte interna troviamo una rifinitura, un'imbottitura in gomma con rivestimento in licra, presente anche sui padiglioni. L'icra è un tessuto traspirante molto soffice al tatto che ci permetterà quindi di non sentire la pressione delle cuffe una volta indossate. I padiglioni sono da 40 mm, i driver scusate sono da 40 mm e all'interno troviamo sempre il logo della TT Esports. Vedremo ulteriori immagini e leggeremo la recensione scritta sul nostro sito www.ximaldoro.com Un saluto allo staff!